Questo è il nuovo movimento, ora ci spiegheranno Oh, finalmente, ok, lo slide-ino c'è Wow, bello, bello questo, bello Secondo me può dare qualcosa in più, ecco Quindi fidatevi del pad che vi mostrerò Siccome ci saranno magari da premere vari tasti per fare queste cose, ecco Oh, oh, questa roba qua un po' mi spiazza Ah, ma si può attivare e disattivare forse Mi spiazza un po', non so se sarà una cosa buona Però ci sta, però ci sta Questo figo, questo molto bello, al posto di molto bello Stile è il Divers anche, il Divers aveva una cosa del genere E' molto molto bello, cioè nel senso, apparentemente Poi non so, se possa funzionare bene su un Black Ops Su un Call of Duty Bello però, cioè, esteticamente potrebbe essere Cioè, sicuramente esteticamente è bello Come movement può dare qualcosa in più Però bisogna vedere se dopo è funzionale o diventa una rottura Questo, cioè, molto bello così, molto bello Vedremo, staremo a vedere se questa innovazione Darà qualcosa in più oppure rovinerà tutto Ok Ok Qua non ho ben capito Cioè, aspetta che qua ci fanno vedere per bene tutto Praticamente così non premi più niente È una cosa che non funzionerà mai questa Questa cosa non funzionerà mai nella vita Cioè, nel senso, non funziona perché non è C'è ti aggrappi dappertutto, penso io, eh Penso che sia scomodo, penso, eh Vediamo Ok, questa cosa ci può stare un sacco Cioè, questa roba qua renderà un sacco i gameplay tosti Perché avete visto che pushata veloce che ha fatto Ci sarà un sacco di movement Eeeh, insomma Cioè, lo slide laterale così, raga Darà tanti problemi Nel senso, problemi perché è una mossa molto imprevedibile dal mio punto di vista Tu stai correndo, c'è uno dietro, ti sbuca con questo slide super potente e ti distrugge Secondo me Oddio Qua hanno aumentato un sacco i lead detention Cioè, sarà magari spalla destra, spalla sinistra Torace alto, torace medio Wow, è il tuffo pure così Eh, ok, corner slicing Quindi, slideare dietro l'angolo, insomma Eh, no, slideare Sarà questo Il modo di curvarsi dietro Dietro gli oggetti Cioè, nel corner Nell'angolo, insomma Prima di entrare ti storge Tipo Rainbow Six, ecco, per intenderci Ci sta, non sono troppo fan di queste movenze, sinceramente Finché il tuffo, lo slide laterale, eccetera Ci può stare però così Uh, l'L9-6-1, mamma mia Uh, e quel cecchino là è fantastico, raga Bellissimo Ah, ok Si potrà mettere proprio dove vogliamo La minimappa E i colpi, eccetera Penso che terrò molto probabilmente tutto quanto Normale, ecco Mappe molto carine Sembrano molto carine Beh, i colori Questo mi piace Questa cosa mi Uh, bello Anche come accessori Molto classico Nell'ultimi Come negli ultimi anni Stile molto Black Ops 4 almeno così, eh Molto bello Mi gusta, mi gusta Tornano anche i prestigi Normali Quindi, sì Ci sarà la Road to Master prestigio Sarà molto bello questo Queste cose Sono molto molto interessanti Speriamo torni un po' al multi, raga Non so se voi Manca A me un pochino si manca Oh, ok Multiplayer Let's go Oddio Cos'è sta roba, raga Un Wallach Legit Ma che cavolo è Queste cose non mi fanno impazzire Le cose che vedi attraverso i muri Non mi fanno impazzire, sinceramente Questa è una torretta Sam Queste sono delle armi Mamma mia Guardate come si muove lateralmente, raga Assurda sta cosa Qua MK Player, raga Non lamentatevi Perché sarà una features Molto interessante Per gli MK Pari qui Sicuro 100% Oh, si parla di Warzone No Non si parla di Warzone Basta Non ci vogliono dire niente Basta Non ci vogliono niente di Warzone Non vogliono Vabbè Oh, che arma è questa? Mamma mia Alcune armi non le riesco a riconoscere Però sono molto belle esteticamente Questa l'ho riconosciuta Infatti dopo ve ne parlo Oh, 25 ottobre 25 ottobre uscirà Va bene, ci sta Reordinate E avrete Quattro skin Un botto di armi Sembrava tipo un UMP, raga Quello Non ci dicono la beta Quando sarà Ah, era un PDV E questo sembra molto L96A1 Di Black Ops 1 Vi dico che armi Ho visto nel trailer Sicuramente l'M16 Di Black Ops Poi Mi sembrava Di aver visto Sicuramente un comandino Secondo me C'era La K Confermata anch'essa Come mitraglietta Ho visto sicuramente L'MP5 La Scorpio No La Mach Non mi sembra di averla vista La K74U Sì L'ho vista E forse c'era anche la Uzi Però non mi ricordo Questa La Kiparis Qua Arma usata pochissimo Si usava forse a Kimbo All'epoca di Black Ops Però l'ho vista E quindi Molto carina comunque E anche forse la Spectre Raga Non lo so Forse anche quest'arma Analizzeremo magari meglio Il trailer nei prossimi giorni Nel complesso Devo dire che è stato Abbastanza bello Ho notato che c'era anche Un'altra arma Che vi porterò nei prossimi giorni Perché si può già utilizzare Fatemi sapere qui sotto Nei commenti Cosa ne pensate Di questo trailer Del multiplayer Di questa anteprima Del multiplayer Di Call of Duty Black Ops 6 Niente Fatemi un commentino qui sotto Iscrivetevi al canale Bella boys Alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti